Ho appena ricevuto un pacco dalla smoothie, apriamo l'insieme, è gigante! Anche non so che cosa c'è qua dentro, la smoothie mi ha chiesto solamente che genere preferivo e insomma ora scopriamo l'insieme, dai andiamo ad aprirlo Ho passato lo scatolone così vi faccio vedere meglio Allora mi hanno mandato innanzitutto una notte di mezz'estate, un gioco fantasy da tavolo ovviamente e vi farò vedere dopo l'interno Passiamo alle altre cose Ho mandato dei libri che sono basati sul loro gioco da tavolo Arkham Horror che ovviamente è basato sui racconti di Lovecraft Pazzesco Pazzesco